... Non devi partire, non devi partire, questa è una rapina! Fate quello che vi dicevo e fai saltare la testa. Giù! Beh, questa è una biblioteca. Che libri vi servono? Ridotti i libri! Su! Allora, per ritirare dei libri vi serve la tessera. Ma che tessera? I documenti ce li hai dietro! Eh? Ce li hai dietro i documenti! E' uno dei due deve fare la tessera. Chi dei due fa la tessera? Fa la tessera? Io non voglio essere peccato! La faccio io! Bene, mi serve la carta d'identità. Tieni! Ok! Bene! Perfetto! Allora, qua la sua carta d'identità con la tessera. Che libri volete? Italo Carvino! Allora, Italo Carvino! Luce Pirandello! Pirandello! Tutta quanta la bibliografia! Sì! E poi? Tutti fermi! Sparo tutti! Ti sparo! Stai zitto! Da cogliere una forza a tutti i libri! Oh! Stai zitto! Sì! Scusi eh! Allora, questa è una biblioteca! Bisogna parlare a bassa voce! Allora, ciao! Senta al suo collega! Ok! Mi sembra che abbia molto più cellulare di lei! Allora, questi sono i libri! Tutti i libri! Tutti i libri! Il prestito dura 30 giorni! Sì! 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 Una volta!! Ma che me lo fa adesso! Aspetta! Arrivederci! Sopra tutti! Ci hanno dato i libri quelli che vogliamo! Ma che tipi! Ci siamo fatti fregare! Guarda! Ma chi è sto? Il mille! Che tipi! Che te! Che ero! Ci siamo proprio fatti fregare! Oh! Ci vai! Grazie a tutti